Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con la ciclica evoluta applicata a Bitcoin. Come vi avevo segnalato nella precedente analisi, abbiamo avuto un bel movimento divertente, ovvero da questo massimo abbiamo avuto un raccordo della durata di 8 giorni, tolgo il punto di domanda perché preferisco, e successivamente finalmente è partito effettivamente il secondo T+, per adesso possiamo definirlo almeno, 7 più 1 fa 8 giorni, un settimanale lancia perlomeno un mensile adesso, non più un bisettimanale. Attenzione, perché? Cosa serve per far partire un nuovo T più 3 trimestrale? Inverso sempre, perché stiamo parlando di ciclica dei massimi, da massimo, si scende, si fa un minimo, poi si rifà un altro massimo, si chiude il ciclo, e poi si fa esattamente nello stesso modo per proseguire. Per far partire un T più 3 inverso, ci serve un sottociclo di 2 gradi inferiori a rialzo di inverso, ovvero a ribasso di indice. Se voglio che parta un nuovo T più 3, un nuovo trimestrale, a me basta un T settimanale lateral rialzista di inverso, ovvero ribassista di indice, noi ce l'abbiamo già, 7 giorni. Tutto come pianificato nella precedente analisi, dopo il raccordo di cui vi avevo detto che era possibile, anzi, che vi avevo detto che era possibile aspettarsi nella realtà di fatto. Questo è il nostro accordo, finta di partenza di nuovo trimestrale e poi ritorno sopra questo massimo, in zona di questo massimo. Adesso è partito in realtà, e lo potete vedere molto bene, con molta più forza e spinta verso il basso, che tra l'altro ci ha portato nei pressi della media mobile a 200 periodi in blu, del nuovo T più. Per ora metto 2, inverso, nuovo mensile inverso, in realtà vedremo che è anche già un T più 3. Anzi, in realtà, avendo già il settimanale, mettiamolo già su T più 3. Ok, perfetto. Per cui, prima considerazione, appena andremo in violazione dei 10.074 dollari, tutto il resto del T più 3 inverso si vincolerà a ribasso, ovvero a rialzo, il Bitcoin continuerà a spingere verso l'alto. Altra cosa, la media mobile a 50 periodi sta per incrociare dal basso verso l'alto quella a 200, e quindi darebbe ancora spinta al movimento, perché andremo in Golden Cross. Altra cosa ancora, punto di attenzione, ovvero scendiamo nel particolare. Se qui è partito un settimanale inverso da questo top, siamo scesi fino a qua, abbiamo fatto però appunto 7 barre, su questo massimo può essersi chiuso il primo T settimanale inverso, e qui sta iniziando probabilmente il secondo. Per partire, un T inverso, di nuovo, come al solito, deve essere spinto da un rialzo di inverso, quindi un ribasso di prezzo che rimanga almeno per due giorni, sotto questo massimo a 9.945 dollari, e dopo che avremo, saremo arrivati a questo ribasso, ci sarà effettivamente la partenza del nuovo settimanale inverso, e questo ci potrà rispingere, non quindi da domani, ma da dopo domani, a salire. Minimo, eh, do un minimo di discesa lateralizzazione che ci potrà essere, minimo domani, al limite si aggiungerà un altro giorno, eccetera, ma a un certo punto, quando già andremo in violazione dei 9.945, anche questo nuovo ipotetico settimanale che sta per partire da qui, e di cui avremo probabilmente conferma domani, si vincolerà a ribasso, settimanale inverso, e quindi al rialzo di indice ci porterà tendenzialmente a salire, e, come detto nelle precedenti analisi, avremo la possibilità di superare i 10.500 dollari. Questo è quanto vedo. Punto di controllo però, attenzione. Se invece, continuando a scendere, per far partire appunto il T settimanale inverso, dovessimo per caso andare già sotto i 9.000, ah, scusate, agli 8.109, iniziamo a fare un pochino più di attenzione, perché la forza inizierà a essere più forte di quello che ci serve per far partire appunto un TP3 inverso che ci aspettiamo poi vincolato a ribasso. Per cui domani tranquillamente può essere un momento per ancora pensare a un eventuale ribasso. Da sabato in avanti, attenzione, uh, aspetta, è arrivato il messaggio. Allora, questo è quanto, per cui, attenzione a questo punto, in violazione di questo massimo e di questo massimo, valutate posizioni long, da dopodomani. Buona giornata a tutti, arrivederci.